ed eccoci egregi signori siamo qua la presentazione di un nuovo sentiero dove ci troviamo qua siamo a torreano e cifidale località montina siamo veramente contenti di poter aprire questo nuovo trail che grazie a stefano che è qua michele e agli altri dell'associazione artisana outdoor siamo riusciti a imbastire e a dare il mandato a rbc i riders barbecue di porse nico di farlo hanno fatto un lavoro incredibile diciamo che l'idea era quello di fare un sentiero flow con la difficoltà da poter fare con le down country comunque con delle biciclette cross country per non essere troppo impegnativo diciamo che ci siamo riusciti poi chiaramente in base a quanto uno è forte andrà giù più veloce però anche le schiappe come me insomma possono divertirsi caratteristiche tecniche del sentiero ma intanto precisiamo che è stato recuperato un vecchio sentiero si chiama pala trail appunto perché qua c'è la sorgente pala così ci dicono i local caratteristiche sono quelle già riuscite da lucca doveva essere un sentiero dovrebbe essere un sentiero flow anche se le pendenze l'hanno reso secondo me un po più difficile di quello che dovrebbe essere però sicuramente c'è di divertirsi per chiunque dal principiante al al pro dislivello dislivello sono circa 270 metri lunghezza un chilometro e due più o meno partenza arrivo a torreano partenza sopra torreano sulla strada alta che va a reanta arrivo a torreano paese in bordo brulelli dovrebbe essere più vero no 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 ma giù c'è giù c'è bisogna te mostre bella 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 bella